Alzo gli occhi al cielo, è il momento mio Tra le stelle, ora aprirlo anch'io E sarò, mi spesuro, mi spesuro E sarò, mi spesuro Facciamo un attimo un passo indietro alla finalissima 2022 che è stato un successone Presentiamo subito la nostra reginetta in carica Miss Vesuvio 2022, Marta Esposito E con Marta Esposito anche Miss Vesuvio Curvi 2022 e Denise Barone Ed eccole qui, facciamo un fortissimo applauso per le nostre due reginette in carica Per la categoria Miss Vesuvio e Miss Vesuvio Curvi Ma entriamo subito nel vivo della mattinata Perché so che anche la giuria non vede l'ora di conoscere le nostre concorrenti Quindi cominciamo proprio con la prima Miss in gara La prima Miss in gara è Francesca Pia Aliperta Seconda Miss in gara, Evelyn Spierto Terza Miss in gara per questa mattina, Eleonora Capasso So che ho un posto ma non qui Tra le tue gridain Prossima Miss in gara, Sara Francipane Una cabriole Di noi resteranno soltanto ricordi confusi Pezzi di vetro mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi La numero 5 per questa mattina è Lucia Granata Per rialzarmi sto silenzio potrei ammazzarmi Prossima Miss in gara, Sabrina De Vito Ed infine la settima Miss è Anna Rita Iacono Loro erano le sette concorrenti per questa mattina Che si contendono un posto alla finalissima 2023 Intanto che sono tutte pronte accoglierei qui con un fortissimo applauso Marta Esposito, Ludovica Cerracchio, Maria Teresa Cirenza, Denise Barone, Carmen Esposito e Alena Pezzone Per Russori Gioielleria Prossima Miss in gara, Maria Teresa Cirenza, Denise Barone, Carmen Esposito e Alena Pezzone I'll dance, 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 dance with my hands, hands, hands above my head Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands above my head And together forgive them before you stand Because I won't cry for you I won't crucify the things you do I won't cry for you See, when you're gone I'll still be bloody Merry We are not just art for me Le nostre Miss con i gioielli di Russori Gioielleria a Casavatore Ferramenta e colori Casandrino Ferramenta, idraulica, elettricità, parati e colori con sistema tintometrico Duplicazione chiavi Ci trovi a Casandrino in via Borsellino 56 Seguici sulle pagine social Luan Moto Metti in moto la tua passione Concessionario Aprilia e Piaggio Vendita accessori Finanziamenti in sede Ti aspettiamo a Casavatore in Viale Marconi 98 Segui le pagine social per tutte le novità Panama Viaggi Dal 2003 proponiamo le migliori soluzioni per i tuoi viaggi Professionalità ed esperienza al tuo servizio Panama Viaggi Con te in giro per il mondo Ti aspettiamo ad Arzano in via Napoli Segui le pagine social Tecno immobiliare di Enrico Di Mella Consulenti immobiliari dal 1992 Valutazioni gratuite Assistenza tecnica e legale Pubblicità su portali immobiliari nazionali Mutui Casa Ti aspettiamo nella nostra unica sede di Casavatore in via Galvani 23 Parco Acace G-Service di Enrico Ferro Officina meccanica anche per auto d'epoca Installazione impianti H2O idrogeno Ricarica aria condizionata Diagnosi iniezione elettronica Manutenzione e cambio automatico Ci trovi ad Arzano in via Corso Salvatore D'Amato 35 Autoscala Guida il tuo futuro Vieni a scoprire tutte le novità Renault, Dacia e DR Insieme ad un'ampia scelta di auto usate e chilometro zero di tutte le marche Ti aspettiamo a Capodichino, Napoli in via Francesco De Pinedo 143 Visita il sito autoscala.srl.it e segui le pagine social Salute style, parafarmacia, sanitaria, cosmesi, prima infanzia, integratori, dietetica, giocattoli e lista nascite Ti aspettiamo ad Arzano via Tellana 60 Seguici sulle pagine social Max Professional Forniture in grosso e dettaglio di prodotti per estetica, farrucchieri, barbieri, nails, make-up, hair extension e profumi Ci trovi a Capodichino, Napoli, strada provinciale di Caserta Seguici sulle pagine social Novità bomboniere Bomboniere, oggettistica, creazioni artigianali, liste nozze, eventi, complementi d'arredo Ci trovi ad Arzano in via Setteree 20 Seguici sulle pagine social per tutte le novità Italia Ceramiche Pavimenti, rivestimenti, igienici, sanitari, termoidraulica Ci trovi ad Arzano in via Tellana 12 Visita il sito italiaceramiche.eu e segui le pagine social Arca Ricambi Ricambi accessori auto delle migliori marche Antifurti e hi-fi car Segui le pagine social per tutte le novità Il prossimo momento moda che vedrà sfilare Ludovica Cerracchio e Elena Pezzone Per Evolution Bikes a Casa Pulla Evolution Bikes Evolution Bikes è il centro più grande per gli amanti del ciclismo di tutto il sud Italia A nostro partner 2023 Allora abbiamo ancora due momenti moda prima della premiazione Il primo è Offside Napoli Sfilano Marta Esposito e Carmen Esposito Marta Esposito e Carmen Esposito per Offside Napoli Uno dei nostri partner 2023 E vediamo l'ultimo momento moda della mattinata Guaglione Motors a Trento La Ducenta Per Guaglione Motors Denise Barone e Maria Teresa Cirenza Quaglione Motors Denise Barone e Maria Teresa Cirenza La nostra reginetta curvi è una delle nostre finaliste 2023 Siamo giunti al momento della premiazione Ragazzi in gara venite qui Siamo giunti al momento della premiazione Miss Vesuvio Baracchia Casandrino E la settima Miss in gara Anna Rita Iacono Grazie per essere stati con noi Dunque questa domenica mattina vi lascio al vostro pranzo Grazie mille, grazie a tutto il service e a tutto lo staff di Miss Vesuvio Ciao